Stilato il programma completo della visita di Papa Francesco il prossimo 15 settembre in Sicilia, in occasione del 24esimo anniversario dell'uccisione del beato Pino Puglisi, avvenuta il 15 novembre del 1993. Il Papa arriverà a Catania e decollerà in elicottero alle 8 a Piazza Armerina, dove atterrerà nel campo sportivo 30 minuti più tardi e sarà accolto da Monsignor Rosario Gisana, vescovo della cittadina ennese. Si trasferirà in auto a Piazza Europa, dove alle 9 incontrerà i fedeli e pronuncerà il suo discorso. Alle 10.15 il Pontefice decollerà per Palermo, arriverà in elicottero al porto alle 10.45, da qui si sposterà al Foro Italico, dove sul palco alle 11.15 sarà celebrata una funzione eucaristica. Alle 13.30 Papa Bergoglio farà tappa alla missione Speranza e Carità del missionario laico Biagio Conte, che assiste migliaia di persone e ogni giorno fornisce pasti caldi e senza tetto e persone in difficoltà. Nella mensa di Via De Collati il Papa pranzerà con gli ospiti della missione, poi alle 15.00 si sposterà a Brancaccio per una sosta nel luogo dell'uccisione di Don Pino Puglisi e una visita alla parrocchia di San Gaetano. Alle 15.30 sarà in cattedrale, dove è previsto un incontro riservato al clero diocesano e religioso, parroci, sacerdoti e seminaristi di tutta la Sicilia, superiori e superiore delle comunità religiose dell'isola. Ad accompagnare il Santo Padre in ciascuna tappa sarà l'Arcivescovo Corrado Lorefice. A chiudere la visita pastorale alle 17.00 ci sarà l'incontro tra il Pontefice e i giovani in Piazza Politeama. A chiudere la visita pastorale alle 17.00 ci sarà l'incontro riservato al clero diocesano e i giovani in Piazza Politeama.